E' polemica aperta e guerra aperta tra il sindaco di Cinque Frondi Michele Conia e il sindaco di Polistena Michele Tripodi. Nel consueto comizio di chiusura della festa rossa targata Partito Comunista Italiano, il sindaco di Polistena Michele Tripodi, esponente di primo piano del rinato simbolo falce martello e stella, non le ha mandato a dire, anzi sul palco centrale di Villa Italia, davanti a tanta gente arrivata da ogni parte, molti in attesa di gustarsi il concerto finale degli Etno Sound, ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe su alcuni argomenti caldi. Prima del rush finale del sindaco sul palco, insieme ad altri esponenti locali del PC e al dirigente nazionale Michelangelo Tripodi, anche Rosa Politano del coordinamento della locale sezione del PC, intitolata ad Antonio Gramsci, anche Marco Policaro. Il primo cittadino Michele Tripodi, oltre a menzionare gli investimenti fatti dalla sua amministrazione per la città, Polistena è una città fuori dal coro, asserito, con una classe dirigente che si dice si chiama comunista. Ha anche parlato di futuro e del sogno di far diventare la sua città un paese dell'accoglienza e della cultura, un centro di arte e cultura, per fare venire gente che significa portare economia e sviluppo. Faremo, ha aggiunto il sindaco, degli investimenti per migliorare ancora. La mancata elezione di rappresentanti di sinistra del territorio a consigliere metropolitano Tripodi non l'ha proprio mandata giù. I grossi comuni della Piana e della Locride non hanno rappresentanti nella città metropolitana, asserito, perché molti sindaci del territorio si sono venduti al miglior offerente, attratti dalla sete di potere da un signore del PD, il sindaco di Reggio. Questa città metropolitana va indagata fino in fondo, ha aggiunto il sindaco di Polistena, perché quello che si è verificato è stato un vero e proprio voto di scambio. Come dato di fatto, per noi è stato un furto. Non è possibile che per quattro voti non abbiamo ottenuto un rappresentante sul territorio. Uno non può essere comunista tanto per. Tanti sindaci dicono di essere comunisti e si trincerono invece su argomenti letali per il territorio. Il danno che è stato fatto è irreparabile, ha tuonato ancora il sindaco di Polistena. I campanilismi stupidi li lasciamo ad altri, è chiaro il messaggio lanciato al sindaco di Cinque Frondi, Michele Conia. Noi siamo la politica che non ruba e che non si nasconte, ha aggiunto il primo cittadino polistenese. Qualche battuta Michele Tripodi l'ha riservata all'ultima polemica scoppiata con il consigliere regionale Francesco D'Agostino. La nostra è una festa senza finanziamenti pubblici, ha detto. Noi non siamo alla festa dello Stocco e del Balcalà, noi siamo ad una festa popolare, organizzata non per fare business o per fare affari. Ed infine il sindaco, ricalcando lo slogan della festa, tema anche dei ribattiti, la più bella del mondo, in riferimento alla Costituzione italiana e ribadendo il secco no del suo partito al prossimo referendum, ha asserito che da Polistena è partito un nuovo messaggio di democrazia e contro la casta concluso per difendere la nostra Costituzione.